Castello Matese News Grazie, buona musica Michele Fabian Granitto, altra punta di diamante della band Ciao saluto tutti da Castello, è un onore più che altro suonare con questi amici e l'unico straniero sono io Grazie a Fabian e il mitico Gianni, Gianni amico di sempre Buonasera a tutti gli amici, ci chiamiamo amici per sempre, ci divertiamo e vogliamo far divertire Ciao Bravo Gianni, Dino chitarrista di livello nazionale Buonasera a tutti, esibirsi qui in questa piazza nostra è sempre un dovere e un piacere Tutto qui Ringraziamo Dino chitarrista di spessore E Mario batterista, percussionista di tutto di più Io saluto a tutti e vi dico divertitevi perché ci sarà una bella serata, buon divertimento Grazie Mario, ringraziamo gli amici per sempre e buona musica a tutti Da Castello Matese News è tutto Hola Grazie Mario, ringraziamo Dino chitarrista di spessore Grazie a Fabian e Disney amici per sempre e mi piace l'unico straniero Grazie a Fabian e la Racano èzenza di sviluppo successo E ti assisteremo ad avere un dovere e 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 pomoglio di molto bene. Vuoi dividerci più di un seguito, se ti prendi puoi alzare il barriere, litigare i contigliosi, cambiare famiglie e città e strappare anche poco e poi finire più. Ma non c'è mai un ragione Si può essere amici per sé Da Castello Matese News siamo qui con il grandissimo artista Pierino Porcelli Questa sera ci ha deliziato con dei brani straordinari Riportando un po' con la sua voce alla ribalta sulla piazzetta comunale di Castello del Matese Pierino, solo un saluto, un commento alla serata E' bellissima, bellissima, soprattutto per la vostra musica io non l'avevo mai sentita Questa sera ho potuto assistere a tutto il concerto e sono rimasto meravigliato Quindi continuerai a deliziarci con dei brani anche quest'estate, lo scorcio di estate Senza altro, se mi volete io sono sempre disponibile Ma come no, la tua voce serve da spinta a tutti i giovani di Castello Senza altro, spero di sì Perché hai un ricco repertorio di canzoni degli anni 50-60 Sì, sì, circa 300 canzoni E ne ho 100 sopra al web 100 canzoni Quindi continuerai a fare queste belle esibizioni Va benissimo Pierino, un saluto a tutti gli amici di Castello e a quanti ti vorranno vedere Ricambiatele Allora salutiamo Pierino Porcelli da Castello del Matese Da Castello Matese News è tutto ORA